I trattori sono la nostra storia e lo saranno anche in futuro. Questo è il maglio che mio padre usava per forgiare, un lavoro duro che richiede passione, richiede prestanza fisica e arte. Fui mio padre Giovanni nel 1910 a costruire la prima macchina multifunzionale agricola. Con solo 19 anni Giovanni Carraro obtiene una menzione speciale nella prima Exposizione Industrial di Padova, dove presenta suo revolucionario prototipo, una macchina capace di arare, sembrare, cultivare e rullare al stesso tempo. Da lì cominciamo la nostra vita. La scena di Padova La scena di Padova Un trattore multifunzionale, ma di tipo tradizionale. Nel 1960 fondai la mia fabbrica, l'Antonio Carraro di Giovanni, con l'obiettivo di specializzarmi nei trattori compatti a trazione integrale, più adattati per le culture specializzate e tipiche del bacino del Mediterraneo. Los modelos evoluzionan rapidamente hasta llegar al primer trattore di quattro ruedas matrici uguali. In breve tempo il nostro marchio si è diffuso in Italia e in Europa, diventando leader del settore. Questa espansione territoriale è stata soprattutto frutto di un grande investimento in termini di sviluppo e ricerca, che continua ancora oggi. Antonio Carraro, desde il principio della década di 70, deseava disponere di un departamento di investigazione e desarrollo per poter diseñare prodotti nuovi e avanzati. Tutta la gamma di prodotti ha sido completamente redisegnata, di sviluppo e di sviluppo. Il primo grande risultato che ci ha dato molto entusiasmo è stata la realizzazione del primo trattore reversibile. Ha il grande vantaggio di poter operare sia negli attrezzi a traino, come sono normalmente tutti i trattori, e sia gli attrezzi frontali, gli attrezzi a spinta diciamo. Abbiamo vinto una scommessa, quello di rendere reversibile anche il trattore articolato, quello che ha dato il via a tutto il resto della nostra produzione. La produzione di trattori Antonio Carraro se diversifica abriendose a nuovi mondi di applicazione. Nel tempo abbiamo diviso le nostre business unit in agricoltura specializzata, utility e ground care. Ora il uso di trattori differenzia l'agricoltura, specializzato nelle diverse applicazioni del settore civile, del mantenimento del verde alla viabilità in carretera, della limpieza urbana a le cose pubbliche, e incluso nel mantenimento di areas deportivi. Dal 1990 ad oggi abbiamo aperto numerose filiali commerciali nel mondo. Spagna, Francia, Turchia, USA, Cile e Australia. E' qua tutta la famiglia. Bisogna dire che quello che mi dà una grande soddisfazione è la partecipazione della famiglia all'attività, come ha fatto mio padre, che mio padre fin da bambino mi ha sempre tenuto nelle sue attività. Posso dire che i figli nostri sono stati tutti bravi, e hanno costituito una squadra che oggi vale veramente tutta la famiglia. Grazie a le nuove generazioni se ha dato un renovato impulso a la investigazione in calidad, in comfort e in il disegno dentro delle migliori tradizioni del Made in Italy. All'inizio degli anni 80 siamo entrati in azienda anche noi figli. ognuno con un compito preciso ed indipendente, contribuendo tutti a modernizzare l'organizzazione. La innovazione ha entrato nei processi produttivi bajo la filosofia originale japonesa chiamata Kaizen. La nuova linea aziendale si realizza attraverso l'applicazione di concetti quali la racionalizzazione del lavoro dell'operatore in catena di montaggio, la condivisione, la riduzione dei tempi di produzione e l'eliminazione degli sprechi. ogni rinnovamento genera a sua volta nuove innovazioni. In Italia, ma anche in Europa e nel mondo, dove c'è la necessità di uno specializzato, la scelta ricade naturalmente sul nostro prodotto perché siamo riconosciuti come quelli delle macchine speciali per colture speciali. Abbiamo una rete di concessionari nel mondo, competenti e soprattutto appassionati, che garantiscono un servizio post vendita di massimo livello. Oltre ai 24 mesi di garanzia, Antonio Carraro offre su alcuni modelli con una estensione addirittura fino a quattro anni. Le innovazioni con Antonio Carraro seguono sin parare fino al giorno. Con la sua larghezza di un metro e trenta, 3.000 kg di peso, un motore quattro cilindri turbo da 87 CV, il nuovo Mach 4, primo esempio di trattore quadricingolo articolato reversibile, sta riscontando un notevole successo dai professionisti del settore. È sorprendente la gran capacità di lavoro del Mach 4, grazie alla formidabile traccione a le quattro ruedas che le permette lavorare in qualche lugar, tutto il anno e in qualche condizione climatica. A tutto ciò si unisce la possibilità di circolare per carretera a una elevata velocità di 40 km ora, la molto riducida compactazione del suelo e la sua incredibile adherenza. Allora capiamo di avere a che fare con un veicolo veramente straordinario e fortemente innovativo. Ogni nuovo prodotto è frutto di un lungo lavoro di studio, prototipazione e test. Solo quando tutte le prove sono superate viene messo in produzione. I nostri clienti sono la nostra forza e noi non possiamo deludermi. Dal 2010 l'Antonio Carraro accelera sul pedale dell'innovazione introducendo più di 30 nuovi modelli, oltre 20 applicazioni speciali e ben 10 nuovi tipi di motori. Dalla famiglia dei Tigre e T-Major abbiamo raggiunto i vertici dell'immatricolazione in Italia. ai trattori specializzati nei trattamenti fitosanitari, con l'introduzione delle nuove cabine Protector ed Air, pressurizzate e omologate in categoria 4, per la totale protezione da polveri, aerosol e vapori. Al Mach 2, complementare al quadricingolo Mach 4, dotato di cingoli posteriori e grandi ruoti anteriori, per garantire all'operatore grandissima stabilità nelle pendenze laterali, massima trazione nelle salite e soprattutto sicurezza in ogni situazione. Il tutto con una bassissima compattazione del suolo. Fino al Tonic, un nuovo concetto di trattori a trasmissione ibrida, meccanico-ideostatica, a totale gestione elettronica tramite un software made in Antonio Carraro. A presto! 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 Or 노�ann. A presto! Motor. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Bistola. Per. Infante. Quando è rorte agito, c'è un nuovo flattenino, Ogni volta è un'emozione più grande, perché rappresenta la realizzazione di un sogno che io e i miei collaboratori coltiviamo tutte le volte. Il nostro obiettivo è sempre quello, riuscire a costruire il miglior trattore del mondo. Qualche volta ci siamo riusciti. Quante volte ho chiesto verità, quanti volti nell'oscurità, grita che non sempre è poesia. Nei silenzi urlati per la via, come bufie a mezzanotte, da sui monti di cemento, come anime perdute nell'immensità del tempo. Giorgia di emozioni su di noi, pensi di pensieri gli occhi tuoi, senti come graffia la città.